Il tema delle ultime due domeniche è stato, se ricordate, due domeniche fa di cui abbiamo parlato, spero che ve lo ricordate, il re Jotam, vero? Il re Jotam che camminò con costanza davanti al Signore, il suo Dio. Domenica scorsa abbiamo parlato del fuoco, vero? Del fuoco dell'altare, del tabernacolo, un fuoco dell'eterno, un fuoco che non deve essere mai spento, ma bisogna alimentarlo e non si lascerà spegnere, quindi anche qui c'è questa costanza, questa perseveranza. E questa sera vediamo invece Asa, questo re, un re che purtroppo non fu costante fino alla fine. Un re che però iniziò bene la sua carriera, le sue primazioni sono molto belle, adesso leggeremo quella. Un re che posso dire era un re consacrato al Signore, se noi leggiamo adesso la sua vita, vedremo che era consacrato al Signore, all'eterno. Sapete che significa consacrato? Consacrato. Significa essere dedicato in modo esclusivo e con passione e abnegazione a qualcuno o qualcosa. Quindi significa essere dedicato in modo esclusivo con passione e abnegazione. Ed allora possiamo dire, penso senza timore di essere smentito, che esistono credenti, vero? E credenti consacrati. Perché non tutti i credenti sono consacrati, purtroppo. È come Asa. Asa era un re consacrato che poi perse la sua consacrazione. Non si era sviato Asa. Era sempre un re che credeva nell'eterno. Asa andava al Tempio, offriva i suoi sacrifici, andava ai culti, festeggiava le feste ebraiche. Non è che Asa si è messa ad adorare gli idoli, ma aveva perso la sua consacrazione. Guardate quanto è importante questo messaggio. Per noi che invece la consacrazione non solo la vogliamo trovare e ricercare, ma la vogliamo pure mantenere e non perdere. Quindi consacrato, dedicato in modo esclusivo, con passione e abnegazione al Signore. Asa, quindi, era un re consacrato. Nei primi capitoli, negli altri due capitoli, nel capitolo 14, noi leggiamo, se prendete la Bibbia, facciamo un veloce, così, volo, sulla vita di Asa, inizia il capitolo 14 con questa bella testimonianza. Asa fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore il suo Dio. Bello, no? Un re che fa ciò che è buono e che è retto davanti agli occhi del Signore. Noi però abbiamo letto anche il finale, vero? Che non finisce così. Asa, in Prima Re, poi c'è scritto, in Prima Re, che Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Addirittura, Prima Re dice, il suo cuore fu interamente del Signore. Quindi era un uomo consacrato, il suo cuore fu interamente del Signore. Pensate, che bell'esempio, che re bravo era Asa. Però nel libro delle cronache troviamo anche i suoi errori, che abbiamo letto. Quindi quest'uomo, un uomo consacrato, un uomo che fece ciò che è buono agli occhi del Signore, un uomo che fece delle imprese con l'aiuto di Dio, delle imprese meravigliose. Noi le leggiamo nel capitolo 14. Nel capitolo 14 ci sono le prime azioni di Asa. Le prime azioni di Asa, innanzitutto vediamo che Asa, dal versetto 1 al versetto 4, dice, Asa, tolse via, versetto 2, gli altari dei dei stranieri, spezzò le statue, abbatté gli idoli di Astarte e ordinò a Giuda di cercare il Signore, il Dio dei suoi padri, e mettere in pratica la legge e i comandamenti. Quindi è un uomo che veramente iniziò alla grande, possiamo dire, il suo regno, vero? Consagrando al Signore se stesso, al suo popolo. E il versetto 4 dice che sotto di lui il regno ebbe pace. Sotto di lui il regno ebbe pace. Guardate, fratelli e sorelle, attenzione. Il risultato della nostra consagrazione ha subito un primo effetto, la pace. Quando uno è consagrato, sta in pace. Pace con chi? Col Signore e in pace con se stesso. Per cui, anche se passiamo i guai, li passiamo tutti i guai, la pace di Dio che sopravvanza un'intelligenza guarderà i nostri cuori, i nostri pensieri in Cristo Gesù. Perché siamo consagrati a Lui, gli apparteniamo, è Lui la cosa più importante della nostra vita. Il risultato è la pace. Ma quanto costa la pace? Andate al supermercato e guardate se non lo scaffate, c'è scritto pace da qualche parte. Guardate su Amazon se vendono pace. Mettete pace. Guardate se ve la rendono. La pace non ha prezzo. È un dono di Dio inestimabile che arriva con la salvezza e con la consagrazione. Perché se un credente la consagrazione la mette da una parte, la pace potrebbe anche andarsene. Esistono quindi credenti consagrati e purtroppo credenti. E la consagrazione non la praticano. E quindi sono credenti di questo tipo. Quindi di Asa si consacrò al Signore e il risultato fu la pace. Poi dal versetto 5 al versetto 7 un altro risultato della consagrazione. Egli costruì delle città fortificate in Giuda perché il paese era tranquillo e in quegli anni non c'era nessuna guerra contro di lui perché il Signore gli aveva dato riposo. E poi continua le parole stesse di Asa al versetto 6. Costruiamo queste città e circondiamo di mura, di torri, di porte, di sbarre e il paese a nostra disposizione. Perché abbiamo cercato il Signore e il nostro Dio? Noi l'abbiamo cercato e Egli ci ha dato pace dentro i nostri confini. Guardate che c'è sempre questa pace che ritorna. Non ci sono guerre, c'è pace nel cuore di Asa. Poi c'era pace pure ai confini perché lì stavano sempre a fare la guerra ma soprattutto nel cuore di Asa c'era tanta pace. E Asa si fortificò, dice questo verso, perché costruì delle città fortificate. Guardate, la consagrazione ha come risultato la pace e poi ha come risultato la forza. Perché quando noi ci consacchiamo al Signore, lo Spirito Santo, fratelli e sorelle, trova una via, una porta aperta nei nostri cuori. Se c'è consagrazione c'è unzione. Ma voglio fare proprio il pentecostale stasera. Se c'è consagrazione c'è l'unzione. Quando se ne va la consagrazione se ne va pure l'unzione del Signore. Ma se c'è lo Spirito Santo noi siamo forti. Ci fortifichiamo. Uasa costruiva i castelli, le fortezze, le mura. Vedete? C'erano queste fortezze ai confini con cui diventava forte Asa. Ecco, noi invece diventiamo forti dentro. Quando ci fortifichiamo? Nel Signore. E Fesini lo dice, capitolo 6. Fortificatevi nel Signore. Come Asa. Fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Rivestite la completa armatura di Dio, vero? Per combattere il buon combattimento della fede. E questo viene dalla consagrazione. Mi seguite? Fate un cenno di vita? Ok. Viene dalla consagrazione. Non c'è altra strada. La pace, la forza. Perché ci stiamo consagrando al Signore. Perché il Signore, come dice questa parola, è la nostra prima cosa, la cosa più importante. Lo seguiamo con passione e con abnegazione. Il risultato poi è anche la benedizione. Perché Asa prosperò, dice questo capitolo, perché c'è benedizione quando siamo consagrati a Dio. Non parlo di soldi, parlo di benedizioni spirituali, che sono molto più importanti. E arrivano i guai. Perché i guai arrivano pure alle persone consagrate. Anzi, qualche volta gli arrivano pure di più di guai alle persone consagrate. Ci prova, insomma, il nemico ad attaccare. E il nemico attacca specialmente le persone consagrate. Non gli serve ad attaccare al diavolo cristiani non consagrati. Quelli sono innocui. Come dire, non fanno niente. Quindi non ha problemi il nemico con questi. Ma certi cristiani consagrati. Sembrano più attaccati degli altri. Perché sono conosciuti all'inferno, come diceva il fratello Revenil. Sono conosciuti all'inferno. E quindi danno fastidio. E allora arriva Zera, dal capitolo 14, versetto 8, arriva un esercito. L'esercito Etiope, con il re Zera. Il re Zera marciò contro di lui con un esercito, leggete bene, un milione di uomini. Un esercito di un milione di uomini. Ma quanti erano contro il re Asa? E al versetto 10, guardate l'uomo consacrato. Di fronte a questa prova gigantesca, a questo esercito che avrebbe dovuto distruggerli, farne un boccone del regno di Giuda, Asa invocò il suo Dio e disse, signore, faccio un quadro a questo verso. Per te non c'è differenza tra al dare soccorso a chi è in grande numero, a darlo a chi è senza forza. Soccorrici, signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo. Nel tuo nome siamo venuti questa multitudine. Su sei il signore nostro Dio. Non vinca l'uomo contro di te. Bello. La frase di un uomo consacrato. Quando noi siamo consacrati, anche se arriva l'esercito nemico, noi alziamo gli occhi al cielo. Noi alziamo gli occhi al Signore e possiamo dire, signore, io non c'ho paura perché sei tu che combatti per me. Per te non c'è differenza. E questo è il risultato della consacrazione. Asa, e questa è la frase che devi ricordare stasera, si appoggiò al suo Dio. Si appoggiò al suo Dio. Che significa? Esercitò la fede in Dio. Appoggiarsi al Signore. Una volta cantavamo il cantico, appoggiarsi a Gesù. Era molto bello. Appoggiarsi a Gesù Cristo. Trovare la forza che non ho mai avuto prima, vero? Appoggiarsi a Gesù. Appoggiarsi al Signore. Se c'è un esercito nemico, se c'è una prova, se c'è una disgrazia, l'uomo consacrato, il cristiano consacrato, si appoggia sul Signore. E appoggiandosi sul Signore, tu trovi una spalla forte e tu non cascherai appoggiandoti al Signore. Su di te noi ci appoggiamo. Che bella preghiera. Del giovane, era un giovane re. Del giovane re Asa. Questa azione, questa fede in azione. E il risultato quale fu? Basta che lo leggere dopo. Gli edifici si sono messi, ne hanno parecchietti distrutti. Erano un terzo il regno di Giù, dell'esercito di Asa. Un terzo, ci dice la Bibbia. E gli corsero apprezzo. Non è rimasto più neanche uno vivo. È stata una vittoria straordinaria. Perché loro si sono appoggiati sul Signore. Il risultato è la vittoria. L'uomo consacrato, pace con Dio, si fortifica nel Signore e vince per fede. Che bella carriera. Il re Asa. Che bel esempio. Il re Asa. Fino a questo punto. Ma nel giorno della vittoria, girate pagina con me nella Bibbia, il Signore lo avvisa Asa. E gli dice, guarda Asa, adesso hai vinto. Però io ti avviso, stai attento, perché quando diventiamo troppo vincitori, potremmo anche montarci la testa. Vero? E potremmo dimenticare dei principi importanti. Lo Spirito di Dio si impadronì di Azaria, nel capitolo 15, e andò a incontrare Asa. E gli disse, Asa e Giuda e Beniamino, ascoltatemi, il Signore è con voi quando voi siete con lui. Il Signore è con voi quando voi siete con lui. Se lo cercate, egli si farà trovare da voi. Ma se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Vedete, in un momento di vittoria, il profeta va da Asa e gli dice, guarda Asa, bellissimo quello che hai fatto. Però ricordati che non hai vinto a te. Ha vinto al Signore. Non dimenticare mai. Continua a cercarlo al Signore. Gli dà un incoraggiamento al Signore ad Asa. E quando Asa, versetto 8, udite queste parole, prese coraggio e continuò a consacrarsi. Ristabilì anche l'altare del Signore davanti al portico del Signore. Fece grandi sacrifici. Ci fu un patto di tutto il popolo per cercare il Signore. Vedete? Un risveglio, una cosa meravigliosa. C'è tutta la descrizione di questo risveglio. Addirittura arrivarono, Asa arrivò a fare una cosa veramente importante. Prese un idolo che aveva sua madre, versetto 16, e la regina, aveva un idolo dentro casa, l'ha presa e l'ha distrutto. Cioè non guardava più un faccio a nessuno, Asa. Pure a sua madre c'è un idolo, distruggiamo gli idoli. Qui ci dobbiamo consacrare tutti al Signore. Che bel esempio, Asa, fino a questo giorno. Che bel esempio. Il versetto 19 finisce, le prime azioni di Asa sono, non ci fu più nessuna guerra, fino al 35esimo anno del re Asa. Quindi per lunghissimo tempo, questo re, questo regno è goduto di pace, perché aveva un re consagrato. 35esimo anno. Ha regnato 41 anni Asa. Cosa è successo negli ultimi sei anni? Che cosa è successo negli ultimi sei anni? Lo abbiamo letto. E tutto parte, nel capitolo 16, nell'anno 36esimo del suo regno. Quando il re di Israele, che si chiamava Baasa, salì contro Giuda per costruire una città al confine Rama, per impedire che qualcuno dal regno di Israele passasse al regno di Giuda. Perché stava succedendo questo? E c'è scritto nel capitolo precedente che andava talmente forte Asa, talmente benedetto il regno di Giuda e Gerusalemme, che quelli di Israele facevano, emigravano, da Israele passavano a Giuda, se stava meglio. E allora questo, per fermare l'emigrazione dei suoi sudditi, accostruiva una città al confine per non fargli più passare. Questo era il problema. E non sembra un gran problema, diciamo la verità. Non sembrava un gran problema. Non è l'esercito di un milione di uomini dell'Etiope, è un re di Israele che ha costruito una città per impedire i migranti di passare da una parte all'altra. E cosa fa Asa? Leggiamolo, versetto 2. Allora Asa prese l'argento e l'oro dei tesori della casa del Signore e del palazzo del re inviò dei messaggeri a Ben Hadad, re di Siria, che abitavano a Damasco, per dirgli ci sia alleanza fra te e me come vi fu tra mio padre e tuo padre. Ti mando l'argento e l'oro. Rompi la tua alleanza con il re di Israele perché si ritiri da me. E Ben Hadad lo fece. Si prese l'oro del Tempio, andò contro il re di Israele, lo fece andare via, lo fece scappare. Asa, con il suo esercito, andò in questa città, Rama, che stava costruendo. Si prese tutta la roba, i mattoni, i legnami che avevano portato gli israeliti, ci fece altre due città. E sembrava una grande vittoria. Però? Ma succede poi quello che abbiamo letto all'inizio. E il profeta va da Asa e gli dice, perché ti sei appoggiato sull'uomo e non ti sei appoggiato sul Signore? Quindi le ultime azioni di Asa sono un grande insegnamento per noi. Perché? Vale più la fine di una cosa che al principio, scritto, vero? Nell'Ecclesiaste. Le ultime azioni di Asa sono diverse dalle prime. Questo re consacrato, questo re che va di vittoria, che si appoggia sul Signore. A un certo punto, dopo il trentacinquesimo anno, sono passati un sacco di anni da quella vittoria, sembra un altro uomo che non si appoggia sul Signore. Non si appoggia più sul Signore Asa. Su cosa si appoggia? Si appoggia sui suoi pensieri. Si appoggia sul suo discernimento. Fa un piano, fa un piano, un piano umano, dice, visto che questo sta lì. Io non mi sento di fargli la guerra, mi sento più debole. Adesso chiamo il re di Siria, che era un nemico giurato di Israele, giurato di Israele. Me lo faccio amico come? Gli do l'oro del Tempio? Me lo faccio amico, lui caccia via il re di Israele e io ho vinto. Ha fatto tutto un piano lui, tutto un piano lui. Non si appoggia più sul Signore, si appoggia sul suo discernimento. E sapete quando inizia la discesa, cari fratelli e sorelle, quando cominciamo a appoggiarci sul nostro discernimento, invece sul Signore? Si appoggia sul suo discernimento, fa un piano. Sembra pure che gli va bene, perché alla fine sembra che ha vinto, no? Ma non ha vinto, perché un profeta va da lui e gli apre gli occhi. Asa non si appoggia più sul Signore, forse perché tanti anni sono passati, lui non è più quel giovane fervente che cercava il Signore. Si era abituato, si andava al culto tanto per andarci, faceva la festa tanto per farla. Ma ormai lui si era allontanato, forse, da quel sentimento iniziale. Vero? Non aveva dato retta al profeta, non aveva continuato a cercare il Signore, ma si era sistemato, sto in pace, le cose vanno bene. E invece no. Quando arriva il problema, lui ha paura. Non è come all'inizio. Signore, tu ci libererai. No, si mette paura, perché chi non si appoggia più sul Signore, la pace la perde e subentra il timore, la paura. Guardate com'è diverso. L'uomo che si consacra riceve pace. L'uomo che perde la consacrazione, il primo risultato che la pace la perde è subentra il timore, la preoccupazione, subentra la paura. E allora Asa continua a fare cose sbagliate. Elabora questo piano e sembra che ha risolto le cose, ma le cose non le ha risolte. Il profeta va da lui, lo riprende, gli dice che il suo comportamento è stato insensato. I siriani così sarebbero rimasti i loro nemici per sempre. E lui in realtà aveva perso, non aveva vinto. Quindi cosa aveva fatto Asa? Non si appoggia più sul Signore, ma al suo discernimento. Si appoggia poi sull'uomo, sul re di Isidia, poi pensate un po'. E quindi cosa succede? Succede che Asa fa una cosa gravissima, e questa è un po' la cosa che vorrei, l'avvertimento che ci dà il Signore, diciamo da questo passo. Questo re Asa cosa fa? Partendo la sua consacrazione, lo dimostra che perde la consacrazione, perché prende le offerte che aveva fatto al Tempio del Signore, l'oro, l'argento, che erano intoccabili, erano del Signore quelli, le aveva regalati al Signore, le aveva donati al Signore, quell'oro e quell'argento del Tempio. Lui prende le cose consacrate, stare attenti, cosa fa Asa? Prende le cose consacrate a Dio e le dà al nemico, al nemico, per essere liberato dalla sua problema. Tutto parte da lì, perde la sua consacrazione, svende la sua consacrazione, pensando di risolvere il problema. Si appoggia sul suo discernimento, si appoggia sull'aiuto dell'uomo e perde la sua consacrazione. Guardate, io ho finito. Negli ultimi, appunto, cinque anni, sei anni, Asa perde la sua consacrazione e poi abbiamo visto che quando uno perde la sua consacrazione ci sono dei risultati, ci sono degli effetti. Vedete, il veggente va e gli dice tu ti sei comportato in maniera da stolto, Asa. Lui che fa? Si irrita, si arrabbia e lo mette in prigione. Mette in prigione il profeta del Signore. Lo mette in prigione. No, non accetta questa riprensione. No, come? Io ho vinto. Che stai dicendo? E lo mette in prigione. E poi dice la Bibbia al tempo stesso Asa divenne crudele anche con altri del popolo. Cioè diventa irritabile, arrabbiato, crudele. Ma come il re Asa che perde la sua consacrazione diventa irritabile e poi diventa crudele. in 43 anni di fede, perché sono 43 ormai, dicevo una volta quando uno diceva sono 40 anni che conosco il Signore e dentro di me dicevo ma quanto è vecchio questo? 40 anni. Sono 43 anni che conosco il Signore. Che il Signore grazie a Lui mi ha salvato. Ho conosciuto tanti Asa. Lo sapete? Tanti. Tanti Asa. Alcuni erano anche amici miei. Asa, dei giovani come Asa promettenti, fantastici, consacrati al Signore, entusiasti che potevano spaccare il mondo per il Signore. Che si appoggiavano sul Signore con i quali ho servito insieme il Signore. E poi cosa è successo? è successo quello che è successo ad Asa. Un bel giorno hanno svenduto la loro consacrazione. Come? Asa ha preso l'oro del Tempio, quello che aveva consacrato a Dio l'ha dato a re di Siria. Questi fratelli, queste sorelle, questi giovani, ma anche meno giovani, che io ricordo, ricordo i loro nomi, ricordo i loro volti, hanno cominciato con delle scelte sbagliate appoggiandosi su loro il fratello Peretti dice metterlo nel disco fisso, appoggiandosi su loro discernimento, cominciando a fare i loro piani, i loro progetti, non appoggiandosi più sul Signore. Si sono appoggiati su loro discernimento, sulla loro opinione, sulla loro impressione, non hanno pregato e digiunato per un mese prima di fare le loro scelte, hanno preso, hanno fatto le loro scelte così, di impulso, non hanno dato retta i consigli di fratelli, di russaggi, di pastori, niente, hanno dato retta a nessuno, sono andati avanti. E cosa è successo? Per quattro sordi in più? Ah, ma sai che c'è? Lì mi danno uno stipendio migliore. Sì? Allora, stai attento che potrebbe essere il diavolo che ti mette davanti una trappola per quattro sordi in più poi ti porta via la tua consacrazione. Eh, ma che sta dicendo? Tanto io sono forte, sono bravo. Per quattro sordi in più cambiano lavoro e non possono più venire al culto. Hanno venduto la loro consacrazione per quattro sordi e hanno perso hanno perso la loro consacrazione. Altri che ho conosciuto per avere un posto più comodo, più vicino, magari c'era una casa vicino alla chiesa che gli consentiva di andare al culto facilmente. Ah no, però qui è faticoso. Abbiamo trovato una casa più bella, più grande, più spaziosa a 70 km non so, dalla chiesa. Eh? e tu gli dici ma hai pregato il Signore? Appoggia di su il Signore che sembra una cosa bella ma magari non è bella. E hanno svenduto la loro consacrazione, la loro presenza al culto, il loro servizio per il Signore per la casa più grande e adesso non vanno più al culto. Hanno perso la loro consacrazione. Quanti esempi? Ho conosciuto addirittura servitori del Signore che hanno perso la loro consacrazione. Cantanti mi ricordo un ragazzo molto bravo di Verona, molto bravo, cantante, musicista, compositore, sempre per questi motivi così umani ha perso la sua consacrazione. Vedete, e poi quando si perde la consacrazione si vive male perché perdi la pace, ti arrabbi, diventi facilmente come Asa, facilmente irritabile e continui a fare scelte sbagliate perché non ti appoggi più sul Signore. Poi, sì, Asa andava al culto, Asa andava al Tempio, mica andava presso Abbaal, Asa. Asa c'era al Tempio, a Giusalemme, alle feste comandate, a Pasqua, alle feste di Tabernacoli, a una festa di Pentecoste, eccetera. Lui andava lì, faceva i suoi ologausti, i suoi riti, faceva i suoi sabbati, ma il suo cuore si era allontanato da quella consacrazione. Il credente, il credente che perde la sua consacrazione è salvato? Sì, magari è salvato, ma quando hai perso la tua consacrazione, la tua vita non è più quella di prima, non è una vittoria, è una vita vittoriosa. Arrivi in cielo come attraverso il fuoco, dice la Bibbia. E perché? Perché perdere tutto quello che il Signore ci ha dato, perdere le scelte azzardate e sbagliate? Vedete visto come Asa finisce? Asa finisce, ha perso la sua consacrazione, ormai si appoggia sempre sul suo discernimento fino alla fine, si ammala ai piedi, dice, ma che ci avrà avuto la gotta? Non lo so che ci ha avuto questo Asa. Si ammala ai piedi e dice la Bibbia la sua malattia fu gravissima, tuttavia nella sua malattia non ricorse al Signore. noi che siamo nel ventunesimo secolo se ci ammaliamo con tutto che abbiamo l'ospedale, l'antibiotico, il dottore, la preghiera la facciamo sempre, vero? La facciamo sempre al Signore. Signore, benedici il dottore, benedici l'antibiotico, benedici, noi ci fidiamo di te, prima di tutto. Asa, che viveva nel 1800, 900, quant'era? Nel 1100 avanti Cristo, per cui i suoi medici erano come degli stregoni degli indiani, erano dei fattucchieri più che dei medici, che fa? Non si appoggia sul Signore, non ricorre al Signore, e ricorre a questi? Sempre il suo discernimento e si addormentò con i suoi padri. Vedete, qui sembra dire la Bibbia, se si fosse rivolto al Signore, ma il Signore la vorrebbe anche guarito, non si è rivolto al Signore. E i suoi giorni, le sue ultime azioni sono queste, da Re consagrato, da Re consagrato al Signore, a colui che invece perde la consagrazione, svende l'oro della sua consagrazione. Per che cosa? Per delle scelte sbagliate. E finisce così. Poi gli fanno un bellissimo funerale, avete visto che è funerale? Sveso sopra un letto pieno di profumi, aromi, bruciare una grandissima quantità al suo onore, perché è stato un re bravo, un re che è piaciuto al popolo. Ma un re che è perso la sua consagrazione. Fratelli e sorelle, le voglio bene. No, questo ve lo dico, prima dico che voglio bene, perché quello che vi sto dicendo forse sembra sembra duro. Le voglio bene. Però stare attenti, perché se noi perdiamo la nostra consagrazione, rimaniamo dei credenti e basta. Il credente basta è come Asa. È un credente che spesso ha paura, spesso ha timore, è un credente che quando arriva la prova va subito in crisi, è un credente che fa scelte sbagliate in continuazione. noi vogliamo dire no, Signore. Oh, Signore, aiutaci, Amenna. Signore, aiutaci. Noi abbiamo dato il nostro cuore a Te un giorno e vogliamo continuare ad essere consacrati a Te. Noi vogliamo continuare a sentire quella pace nel nostro cuore, Signore. In ogni situazione vogliamo sentire quella pace, Signore. In ogni situazione difficile vogliamo dire come Asa, Signore, noi ci appoggiamo su di Te, il giovane Asa, ci appoggiamo su di Te, Signore, e vinceremo appoggiandosi su di Te. Sì, Signore, nella nostra consagrazione non vogliamo vendere per delle scelte sbagliate. Vogliamo rimanere consacrati al Signore, fratelli e sorelle. Ne vale la pena, ve lo assicuro. Io mi sentivo vuoto e indifferente e non vedevo niente Nel cuore e nelle labbra sempre spente piaceva la mia amante ed evitavo intorno a me la gente. Le droghe nel mio pane quotidiano io masticavo piano ma nel profondo mi sentivo strano perché non ero sano e rimaneva tesa la mia mano. non farti più ingannare amico mio come lo sono stato io non farti più ingannare amico mio ti aspetta io tu povera criatura senza amore distrutta dal dolore nella tua vita priva di calore maude di timore afferra il braccio forte del Signore afferra il braccio forte del Signore non farti più ingannare amico mio come lo sono stato io non farti più ingannare amico mio ti aspetta Dio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti